All'estremità meridionale della penisola italiana una tavolozza di colori e di natura si stende negli oltre 15.000 km quadrati della Calabria, una regione di terra e di mare. La sua scoperta inizia a lungo la costa tirrenica. Qui si erge l'isola maggiore della regione. È l'isola di Dino, che richiama nel nome la storia di un antico insediamento della Magna Grecia. Dal territorio che confina con la Basilicata, la costa è un susseguirsi di promontori alternati a strisce di sabbia lungo tratti pianeggianti che hanno accolto le moderne località costiere. Ma per riscoprire le tracce del passato più lontano di borghi e paesi, spesso bisogna salire in alto, sulle rocce che in antichità facevano da difesa naturale. Si narra che a San Nicola Arcella giunsero anche gli abitanti dell'attuale scalea in cerca di asilo. Da oltre mille anni, ciò che rimane dei resti del castello normanno domina dall'alto l'abitato moderno e la costa. Sul mare si erge anche il simbolo di scalea. È la torre difensiva voluta nel Cinquecento dagli spagnoli. La storia di queste coste raggiunte via mare dalle civiltà antiche si legge nel nome stesso dell'antica Cirella, fondata dai Greci sul sito di un insediamento preistorico. Anche qui i resti dell'epoca medievale si ergono su un colle dove un tempo sorgevano il castello e un convento francescano. Ai loro piedi, non lontano dalla costa, l'isolotto di Cirella emerge dal mare con la sua roccia calcarea che l'acqua e il vento hanno modellato. Con meno di un chilometro di perimetro, questo lembo di terra disegna l'orizzonte che fronteggia la città di Diamante. Da borgo di pescatori e di coltivatori, Diamante è oggi una preziosa meta turistica, preziosa come i muri delle sue case che accolgono le opere di decine di artisti. Dall'inizio degli anni Ottanta, i murales hanno trasformato i vicoli in corridoi di un museo a cielo aperto, con immagini che spesso rafforzano il legame degli abitanti con il mare. Ma c'è un altro motivo che fa parlare di Diamante a livello internazionale. Diamante è città del Puevano Cino come tutti i paesi della Calabria, dove c'è una grande tradizione gastronomica legata al diavonello. Diciamo che Diamante poi negli ultimi anni è diventata la capitale del Puevano Cino, perché è sede dell'Accademia Italiana del Puevano Cino e soprattutto si fa il Festival del Puevano Cino. Le radici fra la Calabria e il Puevano Cino sono molto forti, risalgono proprio all'arrivo del Puevano Cino in Italia, a bordo delle Caravelle di Cristoforo Colombo. Fu subito grande amore fra la Calabria e il Puevano Cino perché aveva dei piatti poveri a base di erbe, di fagioli, di ceci e queste pietanze potevano essere insaporite dal peperoncino, per cui anche il carattere del calabrese forte si legava molto a questo gusto. Lungo la costa la scoperta del territorio passa per un altro borgo dalla lunga storia. Costruzioni e ricostruzioni di insediamenti e di fortezze hanno lasciato il segno sul colle che ospita Fiume Freddo Bruzio. Alle sue spalle, attraversando l'entroterra Cosentino, si raggiunge il capoluogo del territorio. I rilievi sono il segno di un avvicinamento graduale alle cime più alte della regione, quelle della Sila. A metà strada fra mare e montagne, sorse una delle più antiche città della Calabria. Cosenza è l'erede moderna della capitale dei Bruzzi, il popolo italico che governò il territorio prima della conquista romana. Lo sviluppo urbano del dopoguerra ha sostituito i terreni agricoli che facevano da cornice al centro storico della città, cresciuta su sette coni. Al centro del nucleo antico, la cattedrale ha più di mille anni. Intorno i vicoli stretti abbarbicati ai pendii conservano tracce e atmosfere del passato, quando Cosenza era già un importante centro di arte e di cultura. Su tutto domina il Colle Pancrazio, il più alto della città, con la mole del castello Normanno Svelta. Le colline nei dintorni di Cosenza punteggiano il paesaggio con le loro distese di Uliveti, che più a sud lasciano il posto alla piana di Sant'Eufeglio. La terza pianura calabrese per estensione è stata una delle maggiori aree di bonifica della prima metà del Novecento e include anche il territorio di Nicastro. In cima all'abitato si ergono i resti di un altro castello normanno. Più che le battaglie sul controllo del territorio, furono i terremoti a mettere alla prova le strutture della fortezza. Per lo stesso motivo, in epoca barocca, fu necessario ricostruire anche la cattedrale, che oggi ha il volto ottocentesco dell'ultimo rifacimento. Ma qui il passato rivive anche attraverso il recupero dell'arte antica. Noi abbiamo dei ritrovamenti qui sulla piana di Lamezia, l'antica terina, che risalgono al V e al IV secolo. Le ceramiche lamitine non hanno una tradizione vera e propria, ma si rifanno a ciò che erano i canoni della Magna Grecia. Quindi vengono estrapolate le forme, ciò che sono i colori, ciò che praticamente sono le incisioni, e vengono riportati nel nostro tempo, riadattandole e dovendole uniformare a ciò che sono le esigenze del nostro tempo. Quindi si parte da ciò che è stato per arrivare a ciò che sarà. La tradizione è un punto di partenza, e poi ti apre ad un mondo che è completamente contemporaneo, fantasioso, fantastico, che è la tua fantasia, che è la tua energia che dai su ogni oggetto che vai a realizzare. La contaminazione Magna Greca rimane ancora attuale, proprio nei materiali. Abbiamo delle ottime argille bianche e delle ottime argille rosse, che sono cariche di ferro e ti permettono praticamente di recuperare quello che poi era l'antica tecnica Magna Greca. Le ceramiche e la metine sono un ponte trapassato e presente, un simbolo della valorizzazione delle proprie risorse, che spaziano dalla storia all'arte fino alla natura. Ne è un esempio il lago dell'Angitola, un bacino artificiale che oggi rappresenta una delle più importanti zone umide della regione. La chiamano la Costa degli Dèi, uno dei tratti più celebri del turismo balneare della Calabria, merito anche delle spettacolari formazioni rocciose che si innalzano lungo il litorale. Il borgo di Pizzo deve il suo nome al Pizzo, lo sperone di Tufo sul quale è cresciuto il nucleo abitato. Il castello quattrocentesco è diventato celebre per un episodio di storia dell'Ottocento. Qui i borbonici del regno di Napoli fucilarono il generale francese Gioacchino Murat. Le sue sale sono oggi la sede di un museo che riproduce il condottiero e i soldati napoleonici che, sbarcati a Pizzo, andarono incontro alla sconfitta. I documenti dell'epoca raccontano che cinque anni prima della sua morte Murat era passato da Pizzo e aveva donato denaro per la ricostruzione del Duomo di San Giorgio, proprio la chiesa dove sarebbe stato sepolto. a Pizzo a sud di Pizzo, lungo il litorale, la frazione marittima di Vibo Valencia annuncia con il porto la città alle sue spalle. Si pensa che lo sviluppo di Vibo Valencia sia avvenuto sulle spoglie dell'antica Ipponion. Il castello Normanno Svevo sarebbe nato oltre mille anni più tardi sui resti dell'acropoli greca. Ma in lontananza il richiamo del mare si fa più forte. Terra e acqua si incontrano sul grande promontorio del Monte Poro che da Vibo Valencia si protende a ovest con le sue scogliere. Per 780 chilometri dal Tirreno all'Oionio il litorale calabrese rappresenta quasi il 20% delle coste dell'intera penisola italiana. E' una continua scoperta dei tanti volti che il Mediterraneo può assumere. Una delle sue perle più celebri è Tropea. La spiaggia è considerata tra le più belle d'Europa. Sul bianco abbagliante di un grande scoglio la chiesa di Santa Maria dell'Isola sorse per ospitare una comunità di monaci e per secoli questo luogo rimase il rifugio di eremiti e naviganti. Ma da qualunque angolazione la si osservi Tropea sorprende i suoi visitatori con la terrazza naturale dove si concentrano le case a strapiombo sulla costa. La costa degli dèi è tanto spettacolare e celebre oggi quanto doveva esserlo agli occhi dei coloni greci che vi approdavano. Si dice che il nome di Capo Vaticano derivi dal luogo di Vaticinio perché qui viveva un oracolo famoso in tutta la Magna Grecia per i suoi responsi. Il promontorio roccioso segna il limite del golfo di Gioia Tauro dove l'erede di un'altra antica colonia greca è oggi sede di uno dei maggiori porti industriali d'Europa. L'attività portuale occupa un posto importante in questo tratto litorale. Lo dimostra lo scalo peschereccio di Bagnara Calabra immerso nei paesaggi della costa viola che fronteggia lo stretto di Messina. La mole del promontorio di Scilla si protende verso la Sicilia. Qui si erge imponente il castello medievale dei Ruffo. La prima fortificazione era avvenuta molti secoli prima già in epoca Magno Greca per difendersi dai tentativi di conquista di questo luogo strategico. La città e le sue coste riecheggiano di mitologia greca. La ninfa Scilla si sarebbe rifugiata qui dopo la maledizione di Circe per vendicarsi dell'amore non corrisposto di una divinità del mare. Antico e moderno si intrecciano. La distanza fra le coste si assottiglia e dal porto di Villa San Giovanni i traghetti solcano il braccio di mare per poco più di tre chilometri. Meno di 20 chilometri più a sud l'incontro con Reggio Calabria non può che avvenire dal mare rievocando l'entusiasmo che gli scrittori hanno espresso alla scoperta della sua bellezza. Nell'Ottocento lo scrittore inglese Edward Lear rimase affascinato dalla visita della città e scrisse Reggio è un grande giardino uno dei luoghi più belli che si possano trovare sulla terra. Gabriele D'Annunzio parlò del lungomare come del più bel chilometro d'Italia. Per ricordare lo sbarco del nuovo sovrano Vittorio Emanuele III il lungomare ospita un monumento in marmo a proteggere la città. La statua fronteggia il teatro una struttura moderna ispirata alla tradizione classica. Al ventesimo secolo risale anche il rifacimento di Villa Genoese Zerbi. Oggi questo antico palazzo dal volto eclettico e inusuale svolge un ruolo di spicco nel panorama dell'arte contemporanea. Mostre e iniziative culturali sono un esempio dell'attenzione che la città dedica all'arte e alla sua promozione. Ma il rapporto tra Reggio Calabria e la cultura ha radici lontane che affondano nella nascita dell'antica Region. I volti urbani si fanno scoprire tanto nello sviluppo del secondo dopoguerra quanto nei vicoli del centro storico dove sembra di poter dimenticare nel silenzio gli oltre 185.000 abitanti della maggiore città calabrese. Una città importante già in epoca classica come dimostrano i numerosi resti archeologici le mura greche furono fortificate nel IV secolo a.C. dal tiranno di Siracusa Dionisio. Quando i romani conquistarono il territorio si impossessarono anche delle sue opere d'arte ma nel trasporto via mare persero quelli che sarebbero diventati un simbolo della Calabria. I bronzi di Riace raccontano la storia di una scoperta e di un lungo restauro che ha riavvicinato le statue dei due combattenti allo splendore di un tempo. rimasti sui fondali di Riace Marina per oltre duemila anni oggi gli eroi guerrieri si lasciano ammirare in tutta la loro fierezza accanto a una straordinaria raccolta di reperti archeologici che raccontano la storia stessa del territorio. Anfore e ancore oggetti tornati alla luce per fare da ponte fra il patrimonio di oggi e la cultura del passato quella cultura che faceva parte non soltanto della vita quotidiana di Reggio Calabria ma anche delle altre grandi colonie della civiltà magno-greca sparse sulle coste calabresi. le torri della fortezza aragonese sono sopravvissute alle demolizioni e testimoniano la grande struttura difensiva che nel tempo dovette fare spazio a piazze strade e palazzi anche la cattedrale racconta la storia cittadina il principale luogo di culto di Reggio ha oggi il volto neoromanico e gotico di inizio novecento e testimonia le ricostruzioni avvenute più volte nei secoli qui termina la scoperta della costa occidentale della Calabria da una parte il mare e la Sicilia alle spalle le montagne il marionio e un'altra storia da raccontare all'estremità meridionale della Calabria mari e montagne tessono un dialogo a distanza ravvicinata la terra assume forme sorprendenti come quella del monte Calvario simile alle cinque dita di una mano che ha dato il nome al piccolo borgo di Pentedattilo è la zona della Bovesia un'area ellenofona dove nella lingua e nei costumi resta viva la cultura greca dalle montagne della Spromonte scorre l'acqua delle fiumare i grandi letti dei fiumi sono come addormentati d'estate e impetuosi d'inverno 37 comuni fanno parte del territorio protetto della Spromonte i paesaggi sono tutelati per quasi 80.000 ettari con vette che arrivano a sfiorare i 2000 metri tra valli boscose scavate dai torrenti qui l'erosione dell'acqua e del vento ha formato anche i monoliti che si concentrano nella valle delle grandi pietre sulla Spromonte come in tutta la catena montuosa che fa da spina dorsale lungo l'entroterra si riscopre una calabria ricca di sfumature dal verde intenso dei boschi fino ai colori caldi della terra e del litorale la scoperta della costa bagnata dal mar Ionio segue il racconto dei suoi millenni di storia quella storia che dall'ottavo secolo avanti Cristo fece approdare qui la civiltà magno greca come a Locri la conservazione delle città antiche è legata anche alla distanza dai centri abitati moderni che sono cresciuti lungo la costa e sulle alture come una grande opera d'arte l'abitato di Gerace si innalza sui rilievi dell'astromonte al periodo normanno risalgono il castello e la cattedrale accanto a numerosi palazzi e resti dell'epoca medievale con il loro profumo intenso i gelsomini danno il nome a questo tratto di costa complici l'acqua limpida e le spiagge la riviera dei gelsomini è diventata sinonimo di turismo balneare anche a roccella ionica all'integrità ambientale si affiancano valori storici e culturali simboleggiati dal castello medievale che nel settecento divenne una residenza signorina sui fondali non lontano dalla costa nel 1972 avvenne il ritrovamento delle due statue greche che sarebbero diventate celebri in tutto il mondo come i bronzi di riace dal mare all'entroterra tra l'aspromonte e la sila altri rilievi dominano paesi di montagna come stilo che nel cinquecento diede i natali al filosofo Tommaso Campanella qui si conserva un piccolo gioiello d'architettura bizantina la cattolica rimase a lungo una delle chiese più importanti della zona intorno si innalza il paesaggio delle serre con scenari che spaziano dai piccoli borghi stretti fra le rocce come quello di Pazzano a zone di natura selvaggia e protetta per i borboni l'area delle serre era un luogo privilegiato per le battute di caccia della nobiltà oggi il territorio è tutelato da una riserva regionale che protegge la fauna e i boschi del parco è come se qui la natura riprendesse il sopravvento sulle passate attività dell'uomo gli alberi sembrano quasi contendersi lo spazio dei vecchi edifici mentre diverse specie animali sono tornate a vivere nella riserva nel medioevo i normanni avevano conquistato queste terre Ruggero d'Altavilla donò parte delle foreste al monaco Bruno di Colonia che gettò le basi per la fondazione di una grande certosa nei secoli successivi l'abbazia di San Bruno crebbe d'importanza e con fortune alterne si arricchì con nuove architetture diventando una delle più celebri e ricche della Calabria la scoperta dei tesori della regione prosegue verso nord nel territorio di Catanzaro il capoluogo della Calabria negli anni 60 fu inaugurato il simbolo della città un viadotto da record con un'unica grande arcata di 231 metri di ampiezza dal ponte si raggiunge il nucleo storico di Catanzaro concentrato su tre colli a 300 metri d'altezza qui nel marzo 2008 ha aperto i battenti il museo delle arti di Catanzaro le esposizioni nelle sale del marca uniscono passato e presente storico e contemporaneo a cominciare dalla collezione permanente del museo provinciale con capolavori e dipinti degli ultimi cinque secoli immancabile un omaggio all'artista catanzarese Mimmo Rotella nato nel 1918 Rotella è considerato uno dei più significativi artisti del ventesimo secolo artefice di un successo che ha valicato ampiamente i confini nazionali ed europei ma l'attenzione per il contemporaneo si respira anche alla luce del sole nel parco della biodiversità mediterranea in questo rinnovato polmone verde della città trovano posto non soltanto animali e piante ma anche installazioni artistiche come l'uomo che misura le nuvole del belga Jean Fabre arte e natura si fondono come due elementi di un'alchimia dando vita a un mondo più vasto attraverso il rapporto tra artificio e realtà a prestare la loro arte sono nomi noti nel panorama contemporaneo internazionale come Tony Craig Anthony Gormley e Mimmo Paladino accanto alle opere scultore e di artisti locali di un'alchimia di un'alchimia di un'alchimia di un'alchimia e di un'alchimia